iscriviti al canale ripendo scab che mi piace non è fortissimo secondo me scab al momento però è troppo divertente a me quella nuova piace solo un po lentino con la sua rossa basta e mai la conosco un teore mai ma è secondo me è passato il momento della carizzo in generale non è questione di pil non pil cioè è questione che ha rotto poi chiaramente farlo nella pil è bellissimo ma quello che deve fare poli e che sicuramente lo farà è sfruttare il marchio pil per fare tanti eventi su giochi diversi con gente diversa secondo me anche cose molto meno strutturate di come sta facendo non so come dire cioè anche la sua isaac è bella è bella tosta vuoi lanciare l'idea e poi gli fai soldi a me che sarà mai in un anno quante volte prendi a raffreddore allora nell'ultimo anno nell'ultimo anno un sacco un sacco prima non lo prendevo spesso nell'ultimo anno con la bimba all'asilo mia c'è mia mia mi ha mandato sulla luna cazzo a saperlo che aveva questa roba qua che aveva vinto perché era lui che ha potenziato ormai non si conta di raffreddore ma sono i cicli di antibiotico idem anche con l'antibiotico non ne avevo mai presi nell'ultimo anno una quintalata io vorrei fare il buddy il prossimo turno io ancora ti avendo a uno che cattivea no non è colpa del covid è questione la bimba lavora anche colpa più che del covid del fatto che in un anno non abbiamo preso niente perché sia stati chiusi in casa e quindi poi dopo quando va così è già un cattivo segno non voglio notare questo è neanche lui sapete cosa voglio fare un servitore in meno una moneta d'oro in più perché sei la moglie medica che sei sempre malato? è che c'è te ho capito non è che se hai la moglie che fa gli occhiali non devi mettere gli occhiali cioè non è che sei la moglie oculista allora non porti gli occhiali cioè buona battaglia no dai no dai e oggi con il cappuccio ragazzi sono implacabile ho delle reclute fresche fresche per te è dentro noi perlomeno ho fullato la board di cosa vabbè non è importante panda o cazza panda dai cazza di amazza che è noiosissimo questo è 25 vediamo quanti ne subisco adesso perché non dovrebbe avere tanti pezzi in campo lui sì ecco che lettura cazza oh mio mio che te è i dosceni 5 e 9 9 questo lo potrei volvere La prima della classe La più abile Si è voluto bene Ho perso uno di attacco E' stato bello Assolda pure una di queste reclute Voglio un'altra di questi Eeeh Ho evoluto la 5 nel pezzo peggiore del gioco E lui con questa cosa è attaccato la 6-4 e la 4-1 Cioè chi cazzo sei? Eeeh Fumichè Eeeh Sto schifo Adonna Sto assai attuando 6 Ehi vedete un po' voi Oh no Mi piace il tuo modo di pensare Mi piace il tuo modo di pensare Mi piace il tuo modo di pensare Ehi vedete un po' voi Ehi vedete un po' voi Ehi vedete un po' voi Sto schifo Spera ciò che posso Ehi Sto schifo Ehi Ehi Sto schifo Sto schifo Sto schifo Sotterriamo le ossa Persene i ricordi Ok Più di ossa non l'ho mangiata Da che c'è il pistello pure lui? Sono Taviana 3 Continuo Taviana 5 Ho vinto a malapena Ormai potrei vendere sto eh Dammi lui I tuoi servitori hanno davvero dato tutto? Vera candela E' dentro noi Vera candela E' dentro noi Esattamente ciò che stavi cercando Piazza dolina Vera candela E' dentro noi I tuoi servitori E' dentro I tuoi servitori E' dentro Devo E' dentro C'è la scelta Molto tattica E' dentro Uuuu C'è la scelta Perdo due gold, ma almeno, mi vieno un po' più forte, è un void. Oh, mannaggia. Il suo veleno è andato sul mio più grosso. E abbiamo fatto la finta. Non posso beccare queste cazzo di percentuali ogni volta, vaffanculo! Era figa questa vettita, perché l'avevamo cam beccata, dal niente l'avevamo cam beccata. Fuck, peccato. Bel game, però. Cioè, sono più contento. Allora... Quest'età che mi piace, dai. Mi piace, mi piace. Mi piace. Pam, 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 pam. Questa volta qual è la tua strategia? Bello. Vai, Johnny! 5-3. Gatto! 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 Gatto bello! Voglio un gatto bello! Gatto! Mentre la pressione! Ok... Non dirlo agli altri Ma faccio il tifo per te Eeeh Lo gnolla con scuro di vino Che stile Questo mi piace Ciao amici Questa no Passiamo tu e no Livello Compio gatto E ho capito che ho due gold Che faccio? Perché io vi ascolto? Che cazzo faccio? Ma dovrò ottenere due gold Maledizione Ovviamente poi becco il 34% Ma che io guardo la chat? Ora la spengo la chat Maledizione Ho delle reclute fresche fresche per te Ma dovrò fai bene? Ma dovrò fai bene? Grazie Buona battaglia Belli Belli se mi non legge la chat eh lo so anche poi facciandolo mi piacete non so perché io ancora leggo la chat però è un vizio che ho consideriamo che il turno dopo io avrò buddy sicuramente mi piacerebbe non perdere il 2.2 io ho preso uno 0.7 l'ital conto conto però ci sai fare esattamente ciò che stavi cercando bene molto bene molto bene le 2 triple molto bene molto hanno di buono queste 2 triple che poi le mangio e quindi mi danno 5 gold mangio chiaramente però in cubo d'osso poi ci sai fare però con fanatico come faccio a livellare anche prendere il calca onde è un buon pezzo anche io avrei scelto quello e poi coccane ma una triple no eh non dirlo agli altri ma faccio il tifo per te devo livellare il prossimo turno per probabilmente mangiare il barione con fanatico goccia è figa perché se ne entriamo un altro che se ne fai a fare non mi piace no 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 I tuoi servitori hanno davvero dato tutto di questo le ho si 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 che cavallo è figo ma la mantida è meglio oh madonna mia si è impallato tutto comunque ho perso perchè non funzionava il click cioè non mi ha funzionato il click e quindi ho fatto un piccolo lag che poi non sono riuscito a posizionare se avessi posizionato questo fighter ha vinto allora se 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 Questa è in ordine. Purtroppo non ho una direzione io a sto game. La sto cercando evidentemente ma non ho una direzione non la sto trovando mi manca completamente. Poi al prossimo turno questo costa 14 non riesco mai a farlo. Ecco quello che gli ho detto è proprio quello che non volevo vedere. Grazie alla buon'ora che chiedi. Prendo un po' tutto va. Minchia beanna ci sei anche tu. Un servitore in meno una moneta d'oro in più. Un servitore in più. Protocollo sempre attivato. Un servitore in più. 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 Sei stato sulla lista degli invitati? Il problema è che secondo me questa è la classica board che non batto mai. Solo 13 per cento di rete. Alla prossima. 15 per cento. Peso. Ok.